Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Oggi affrontiamo una notizia tragica che ha colpito il grande Nino D'Angelo e l'intera Italia. Questo video è dedicato a un lutto che ha sconvolto non solo Nino D'Angelo, ma anche il mondo del cinema e delle serie TV. Un amico caro di Nino, che era anche un orgoglio napoletano, è venuto a mancare a seguito di un tragico incidente in moto. L'attore e produttore di fama Gaetano Di Vaio, a soli 56 anni, ha perso la vita. Gaetano Di Vaio è stato coinvolto in un grave incidente motociclistico il 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli. Da allora, era ricoverato in rianimazione all'ospedale di Giuliano. Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire. Gaetano non ce l'ha fatta. Gaetano Di Vaio, creatore della serie Gomorra e di film come Napoli, Napoli, Napoli di Abel Ferrara, è stato un pilastro per Napoli e per il cinema italiano. Voglio condividere con voi le parole toccanti di Nino D'Angelo, che ha ricordato l'amico con un messaggio su Facebook. Nino ha scritto con il cuore in mano, non ci posso credere. Mannaggia a te e a sto motorino. Con queste parole, Nino ha espresso tutta la sua incredulità e il suo dolore per la perdita di Gaetano Di Vaio. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.